Tra un po' ce lo vietano per letto. Sì, ecco, sì, anche. Però, vabbè, mindfulness sostanzialmente vuol dire essere pienamente consapevoli nel qui e ora. Quindi credo che non abbia... Quando andate in battuta dovete essere consapevoli del più. Ah, beh. Ic e Tnunk, in battuta, è fondamentale. Penso che possa servire sia nell'ambito sportivo essere pienamente consapevoli di quello che sta succedendo nel qui e ora. E il qui e ora è un concetto un po' vago. Nel senso che quando cerchiamo di afferrare il momento presente in realtà è già scappato. Però dal momento presente dipendono tutte le altre condizioni future. E quindi non essere mentalmente in quel luogo e in quella situazione significa sicuramente infangare il proprio futuro. Sicuramente rendere il proprio futuro, che sia una partita o che sia la propria esistenza, non portarla nella direzione in cui vorremmo. Grazie.